il problema non è entrare che adesso chi cazzo lo tira fuori da qua tira sotto ben cazzo bella fabio fabi c'era lì l'accendino anche da chi va da così è comodo no che ci serve pirla ma porca miseria che poi la prossima volta non ce l'ho più tanto c'è un altro verde più vecchio c'è un altro verde più vecchio dentro qua seve così ti copiamo anche e ora scendere te no no tienilo 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 oh non sei neanche sporcato non sei neanche sporcato non sei neanche non sei sporco ne davvero a posto direi che non hai capito che moto di indurro non lo sceglie ti salta su mi guozza la gamba arriva un'acca metà sera ah 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 Grazie.